Noi oggi qui ricordiamo il 78esimo anniversario del bombardamento dell'Abbazia di Monte Cassino. Lo dobbiamo ricordare alla luce dell'attualità, non solo cercando di ricordarlo, ma di esaminarlo con gli occhi dell'attualità. Il bombardamento dell'Abbazia di Monte Cassino è stato effetto di una guerra armata dal genere umano contro il genere umano. Una guerra combattuta da eserciti contro altri eserciti con effetti disastrosi sulla popolazione umana, sugli esseri viventi, animali, vegetali, indifesi tutti. Fu una battaglia contro una umanità inerme impegnata a vivere nel proprio lavoro, fu contro la terra e contro la pace. E' da questa popolazione che nulla aveva da spartire con la crudezza delle bombe e dei cannoni, con la ferocia del genere umano in divisa e non, esercitata contro un'umanità in abiti civili e militari, peraltro allogorata dalla fatica del vivere, che deve partire la capacità odierna di riflettere degli scrittori, degli autori e degli artisti impegnati non per la pace, ma contro la guerra. Perché tra gli scrittori ci sono anche coloro che, come risulta dalla nostra storia, sono anche favorevoli alla guerra. E' nostro compito di oggi ricordare quel disastro, di non dimenticarlo, necessitati da una memoria che sia insegnamento di attualità, ricca di saperi per l'oggi. Perché dobbiamo farlo? Perché sembra che non si sia imparato nulla, eppur ci sono saperi, i saperi del bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino, che pesano sull'umanità. Infatti, in questo momento, nel mondo ci sono guerre in decine e decine di paesi. Con centinaia di migliaia di vittime, si può cominciare in ordine alfabetico. Da Acer, un paese dell'Indonesia, Acer, 12.000 sono i morti calcolati nella provincia autonoma dell'Indonesia. Altre fonti dicono 50.000, altre 90.000. Afghanistan, 50.000 solo le vittime nel 2020-2021. Algeria, 100.000 morti, altre fonti dicono 150.000, la guerra non è ancora conclusa. Burundi, le guerre civili e etniche sono ricominciate. Brasile, 5.000 sono le vittime nella guerra tra i cartelli della droga ed il governo. Colombia, 700 sono i morti per gli scontri di quest'anno. Congo, 4.500 sono le persone morte nella cosiddetta guerra mondiale africana. Costa d'Avorio, dopo un decennio di guerra civile, nel 2003, sono stati firmati accordi di pace con contrasti e conflitti che non hanno ancora esito positivo. Egitto, da alcuni anni il governo egiziano si scontra con gruppi di fondamentalisti islamici armati. Eritrea, Etiopia, 70.000 sono le vittime dopo due anni di conflitto tra Etiopia ed Eritrea. Filippine, 150.000 sono i morti nella guerra tra l'esercito di Manila e i militanti del fronte di liberazione islamico del Moro. Yemen, 21.768 sono i morti nella guerra nel paese più povero del mondo. Iraq, è in corso una guerra tra l'opposizione e il governo. Israele, Palestina, dopo oltre mezzo secolo di guerre, di patti storici, di atti terroristici e di speranze, di pace andate in fumo, il sogno di due popoli, due stati resta purtroppo ancora un'utopia. Libia, 2.500 sono le vittime nel 2021 degli scontri a fuoco, esplosioni e rivolte. Kashmir, la rivolta del Kashmir alimenta una guerra per procura tra i due colossi asiatici, Pakistan e India, che dispongono anche di testate atomiche. Kurdistan, è più di mezzo secolo che i kurdi distribuiti tra Turchia, Iraq e Iran, auspicano la nascita di uno stato kurdo. I conflitti sono ulteriormente aggravati dal conflitto in Iraq. Manwar, 3.500 sono i morti per le 320 situazioni di conflitto. Nepal, 8.000 sono le vittime nella guerra tra i guerriglieri maoisti del Nepal contro la monarchia costituzionale del re. Nigeria, 5.000 sono i morti in Nigeria divise in oltre 250 gruppi etnici linguistici. Repubblica Centroafricana, 500 sono i morti calcolati. La Repubblica Centroafricana è stata dilaniata da una guerra civile. Siria, 300.000 e più sono i morti dal 2011, 3.500 nell'ultimo anno. Somalia, 3.700 sono le persone morte tra il 2019 e il 2020. Sudan, 10.000 sono le persone che muoiono ogni mese in Darfur secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ucraina, 13.000 sono le vittime calcolate ad oggi. Guerre nel mondo. Anche la storia d'Europa narra di una gran quantità di guerre. Guerre di tutti i tipi che l'umanità europea ha combattuto contro un'altra parte dello stesso genere umano europeo. Guerre di potere, guerre economiche, guerre locali e mondiali. Un lungo elenco. Guerra aerea. Guerra di aggressione. Guerra anfibia. Guerra di annientamento. Guerra asimmetrica. Guerra batteriologica. Guerra di bassa intensità. Guerra di bombardamenti. Guerra chimica. Guerra cibernetica. Guerra civile. Guerra coloniale. Guerra combattuta. Guerra commerciale. Guerra di confine. Guerra congelata. Guerra continentale. Guerra convenzionale. Guerra corrazzata. Guerra di divisione. Guerra etnica. Guerra elettronica. Guerra economica. Guerra entomologica. Guerra d'evacuazione. Guerra di guerriglia. Guerra dell'informazione. Guerra industriale. Guerra di insurrezione. Guerra lampo. Guerra locale. Guerra di mare. Guerra meteorologica. Guerra mondiale. Guerra di montagna. Guerra nucleare. Guerra non convenzionale. Guerra d'occupazione. Guerra domicidi. Guerra per procura. Guerra di posizione. Guerra psicologica. Guerra di religione. Guerra di rastrellamento. Guerra santa. Guerra sottomarina. Guerra di successione. Guerra tossicologica. Guerra totale. Guerra tribale. Guerra di trincea. Guerra urbana. Guerra. Guerra tim gracias. Questo è il retaggio che l'umanità tutta, non solo quell'europea deve tenere ben a mente. E in prima evidenza. Oggi a questa memoria assistiamo a due sommovimenti che segnano profondamente il nostro tempo e la nostra vita. Il primo, l'intelligenza umana viene sopravvanzata dall'intelligenza artificiale, è in corso un fenomeno di questo tipo. È un dato che si può dire e pensare anche in un altro modo. Secondo voi, il genere umano ha già consegnato aspetti importanti della propria esistenza all'artificialità dell'intelligenza? Ditemi, è un'idea sbagliata quella di ritenere che l'umanità ha già avviato la consegna della propria umana natura ad un sistema di artificialità che potrebbe persino inficiare se non distruggere lo stesso genere umano? Il secondo momento non è meno importante del primo, caratterizza il tempo che stiamo vivendo. È avvenimento che dobbiamo saper ben connettere con il bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino. La guerra è in corso contro la pandemia del coronavirus che tutta l'umanità combatte a livello globale? Ditemi, non avviene tra il genere umano e un essere che umano non è? Tutta l'umanità, tutta, è chiamata a combattere contro un virus non umano che si è dichiarato disponibile a decidere della vita e della morte degli esseri umani. Ditemi, il Covid-19, 20, 21, 38, 40, quello che è, non è un virus che presume di distruggere l'umanità e che già ha ucciso una parte di essa? Ed è un virus subdolo, non conduce soltanto alla morte coloro che riesce a colpire in forma letale, ma insidia anche le psicologie, le menti, i cuori, i sentimenti, provocando disponibilità personale, intima, perfino alla morte, all'autodistruzione. Non servono gli argomenti per combatterlo, non servono più gli eserciti divenuti obsoleti, inutili. L'umanità in questo momento deve combatterlo con la propria intelligenza e soprattutto affidarsi alla fede, all'intelligenza scientifica, sanitaria, medica, persino artificiale e umana al fine di produrre un antivirus che la salvi. Non solo, ma l'umanità tutti insieme deve avere la forza di lanciare un anatema contro chi o contro cosa produce un essere che sfugge alla natura umana, contro l'insorgenza di esseri prodotti dai disastri ambientali, climatici, terrestri, che hanno effetti globali. Se non è così, allora ditemi, non vi sembra necessario che l'umanità si faccia avvertita, invitando gli umani, soprattutto quelli di buona volontà presenti nei governi dei paesi di tutto il mondo, alla necessità di elaborare una Costituzione della Terra, con principi a cui tutti devono attenersi. Ditemi, non c'è necessità di creare uno strumento in grado di rispondere alle grandi sfide delle emergenze globali umane, climatiche, ambientali, ma anche animali, vegetali, terrestri e non solo terrestri. Le Costituzioni degli Stati sono vecchie, concepite con mentalità localistiche, non in grado di affrontare le novità prodotte dall'intelligenza artificiale e dalla pandemia. La Federazione Unitaria Italiana Scrittori ha portato qui alcune coppie di un suo manifesto dal titolo Paesi d'Europa, articolo 1 delle Costituzioni Europee, in cui gli articoli 1 delle Costituzioni dei Paesi afferenti all'Unione Europea sono messi a confronto per evidenziare la vetustà e l'inadeguatezza rispetto all'attualità. Per esempio, all'articolo 1 dell'Austria è scritto che è una Repubblica democratica il suo diritto promana dal popolo. Belgio, articolo 1. Il Belgio è uno Stato federale composto da comunità e regioni. Bulgaria, articolo 1. La Bulgaria è una Repubblica con una forma di governo parlamentare. Danimarca, articolo 1. La Costituzione si applica all'intero regno di Danimarca. La forma di governo dovrà essere quella di una monarchia costituzionale. Finlandia, articolo 1. La Finlandia è una Repubblica sovrana. La Costituzione garantisce l'inviolabilità della dignità umana, la libertà, i diritti dell'individuo e deve promuovere la giustizia sociale. Francia, articolo 1. La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'uguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini. Germania, articolo 1. La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. Grecia, articolo 1. La forma di governo della Grecia è quella della Repubblica parlamentare. Italia, articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Polonia. La Repubblica di Polonia è il bene comune di tutti i cittadini. Portogallo, articolo 1. Il Portogallo è una Repubblica sovrana fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare. Slovenia, articolo 1. La Slovenia è una Repubblica democratica. Spagna, articolo 1. La Spagna si costituisce come un Stato sociale democratico di diritto che propugna la libertà come valore superiore del suo ordinamento giuridico. Ungheria, articolo 1. L'Ungheria è uno Stato di diritto sovrano e democratico. Ditemi, se non è da qui, se non è dall'abbazia di Monte Cassino e in questo giorno di memoria che è possibile avanzare l'ipotesi di andare a proporre e chiedere di scrivere gli articoli di una Costituzione della Terra, sapete indicarmi un altro luogo o un'altra data? E soprattutto ditemi, se possiamo attendere, se c'è ancora tempo per occuparsi di altro e trascurare questa impellenza. Non solo. Per fare un esempio, esiste una foresta amazzonica e se volete più vicino a noi in Europa esiste una foresta nera e c'è anche un grande appennino delle grandi Alpe in Italia che l'umanità sta distruggendo. Ditemi, se nella Costituzione della Terra non debba essere configurato anche la necessità di costituire un demanio universale, intoccabile, da salvaguardare, fondato sul criterio della pubblica utilità umana e universale. Una necessità ben diversa dal criterio di sfruttamento fino a oggi avanzato dall'uomo, da un genere umano che si è ritenuto padrone assoluto della Terra, del cielo, del mare e di tutto, e tutto ha distrutto, o quasi. Concludendo, l'umanità non ha bisogno di eserciti, di flotte aeree e marine che combattano altri eserciti, altre flotte aeree o marine a necessità di sviluppare intelligenze umane e artificiali per arricchirsi di scienze di sapere propri di una disciplina del bisogno, o meglio ancora, per elaborare una filosofia del rimedio. Quest'ultima deve progettare metodologie e principi idoni a correggere gli errori compiuti, a costruire sistemi e relazioni onde apportare modifiche e recuperi per il clima, per l'ambiente, per le energie afferenti al mondo vegetale, quell'animale e soprattutto per rimediare a tutto ciò che ha offeso la Terra, l'umanità e la fede. Ditemi, se non è necessario che la filosofia dei prossimi anni, anziché essere del progresso, non debba essere una filosofia del rimedio e, al contempo, se non ha bisogno di una filosofia della scienza e dell'umanità. Ed è con allegria, con il consenso dell'abbate, che dal respiro delle terre di Monte Cassino e dai fiati delle tombe e dei cimiteri che circondano l'abbazia, gli scrittori per la pace, gli scrittori contro la guerra, devono far sorgere una comune volontà di avviare le riflessioni idonee per elaborare e scrivere una Costituzione globale dell'umanità e della Terra, che abbia come humus naturale e patrimonio fondante la pace, come ha ricordato stamattina l'abbate nell'abbazia di Monte Cassino. Nessuna Costituzione delle 193 nazioni rappresentate dall'ONU, la FUIS e all'ONU, e quelle dei 2007 paesi a cui corrispondono le bandiere del manifesto elaborato dalla FUIS, dichiara nel suo primo articolo quanto oggi è necessario, e cioè che l'umanità è una e indivisibile per natalità, origine, genere, sesso, età, razza, religione, senza confini territoriali o concettuali. Non debbono essere solo gli scrittori a dirlo e a farlo. E se qualcuno, forse anche ha ragione, dovesse ritenere che quanto finora proposto non è compito di scrittori o comunque non solo di scrittori, proprio gli scrittori, gli autori, gli artisti sanno che hanno anche un altro terreno su cui esercitarsi, quello di scrivere poemi universali e romanzi a contenuto d'umanità globale. Grazie dell'attenzione.